Lo sport insegna a ritrovare, a fare le qualità di migliorare, un po' di impegno, la mia passione, un giorno che io diventerò campione. Una giornata all'insegna del divertimento ma anche dell'impegno. I giovani cremonesi si sono dati appuntamento alla Cannottieri Flora per un evento che ha avuto lo sport come filo conduttore. È importante in età giovanile avere la possibilità di scegliere in base alle proprie preferenze ma anche alle proprie inclinazioni. Racchiude tutti i risultati sportivi di comportamento e di disciplina di tutti i nostri 90 bambini guidati dai nostri istruttori, tutti altamente qualificati. È un progetto riconosciuto dal CONI, un progetto EduCamp. Ciò significa che tutto è praticamente certificato dalle qualifiche degli istruttori agli impianti a disposizione dei ragazzi. Per noi è un piacere offrire le nostre strutture ai bambini, non solo soci, perché siamo aperti a tutta la città. E si crea, la cosa bella, un vero e proprio orientamento sportivo perché sperimentano un po' tutte le attività sportive e poi magari scelgono loro quello che può essere lo sport che poi faranno in età evolutiva. Sono state parecchie le discipline sportive provate sotto il caldo sole di luglio. Alla mattina fanno attività per età, invece il pomeriggio sono insieme ai bambini più piccoli e più grandi, quindi socializzano anche con età diverse e fanno dei giochi sportivi. Questo era un esempio di un gioco che hanno fatto, di collaborazione, dovevano passarsi la palla sopra la testa e vinceva chi portava la palla o la pallina, che il tema erano i pirati, come se fosse stato un diamante nel forziere alla fine della fila. Quindi è anche adatto allo spazio che avevamo. Avete visto la cornice dei genitori, come seguono e come sono contenti di vedere i loro figli ben guidati da personale altamente qualificato.